Questo credo sia un tema molto dibattuto in quest'aula, quello toccato dalla mozione visto che si sono attivate anche le confederazioni del commercio per indirizzare il voto evidentemente è un tema che scalda. Quello che andiamo a discutere oggi è un tema che ci è stato affrontato in quest'aula in precedenza poi successivamente portato in commissione che aveva già creato un po' di tensione, sembrava un problema soppito poi il governo nel mille proroghe ha pensato bene di fare un decreto che posticipa l'inizio e l'entrata in vigore del limite della Bolkestein per alcuni settori. Nello specifico noi ci rivolgiamo alle aree mercatali per le quali noi abbiamo fatto anche una legge sul commercio in regione Lombardia lo scorso anno che oggi viene messa in una situazione molto critica perché ci troviamo nella condizione per la quale i comuni hanno attivato dei bandi per riassegnare con un percorso previsto dall'accordo Stato-Regioni che però viene messo a repentaglio e a notevole rischio dal mille prorogo che è stato approvato dal governo. Il decreto non è una legge definitiva lo sappiamo tutti dura 60 giorni vediamo come lo recepiranno se lo recepiranno se verrà modificato se verrà fatto decadere però questo significa che siamo in una situazione di totale instabilità. Quindi noi abbiamo semplicemente proposto all'aula di fare in modo che la regione Lombardia sia attiva affinché suggerisca ai comuni di sospendere il bando in modo da attendere l'esito dell'eventuale conversione in legge del mille prorogo o decadenza in modo da poter proseguire. Questo perché? Perché in una situazione di materie concorrenti o temi con legislazioni che vanno in contrasto l'un con l'altra il rischio è molto alto di creare un danno ai cittadini anche perché non stiamo parlando di una fascia così ricca e benestante perché chi ha le aree mercatali sono persone che magari nella maggioranza dei casi faticano ad arrivare a fine mese. Senza considerare le criticità previste per gli affittuari di quegli spazi perché c'è tutta la criticità di chi ha preso in gestione tramite locazione regolarmente registrata presso il notaio queste stesse aree. Il problema poi tra l'altro si potrebbe anche sommare rispetto al parere che è stato richiesto dal governo e che l'antitrust ha dato rispetto all'accordo stato-regione nel quale non credo sia la sede questa per discuterne perché è un tema di cui ha parlato l'antitrust che dava un indirizzo preciso al ministero che indirettamente va a mettere in discussione l'intero accordo stato-regioni sul quale noi non stiamo intervenendo perché non si può gestire ripeto un tema di questo tipo con questa superficialità e con un continuo cambio di rotta da parte del governo. Quindi la nostra richiesta è semplice credo che il PD non potrà che andare nella stessa direzione anche se so che molti non lo faranno perché se il loro governo decide di fare una scelta la logica dice che la si rispetta. Poi si può trovare qualsiasi interpretazione normativa per cercare di dire no, non li blocchiamo e quant'altro. Quindi la nostra è una proposta di buon senso, ci auguriamo che l'Aula preferisca fare una scelta razionale in linea con la normativa vigente e non facendosi influenzare dalle confederazioni che fanno il loro lavoro, che noi rispettiamo e che spesso ascoltiamo, con le quali ci confrontiamo ma in questa occasione siamo diametralmente schierati su posizioni opposte. Chiudo augurandomi che i colleghi di oggi Lombardia Popolare fino a qualche mese fa NCD, magari fra qualche mese avranno un altro nome, possano fare una scelta ragionata, in particolar modo il collega Piazza che è sempre attento a quello che le confederazioni cercano di influenzare, so che lui è assolutamente contrario a questo, quindi sono certo che preferiranno fare una scelta nel merito anche perché, e chiudo, e qui mi rivolgo all'assessore Parolini che ringrazio di essere in Aula, ho trovato alquanto spiacevole che il comunicato della Regione sia praticamente stato scritto indirettamente con le confederazioni stesse, perché questo è quello che si percepisce, tant'è che poi sono state fatte anche delle comunicazioni delle confederazioni ancora un po' col simbolo della Regione. Grazie a tutti, grazie a tutti.